Sono 26.662 nuovi contagi da Covid-19 registrati su tutto il territorio nazionale in base all'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute, di cui 1920 in Sicilia. Nella provincia nissena sono 86 nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 30 sono di Gela, 15 di Caltanissetta, 8 di Niscemi, 7 di Mussomeli, 7 di San Cataldo, 4 di Sutera, 3 di Butera, 3 di Campofranco, 3 di Riesi, 2 di Mazzarino, 2 di Sommatino e 2 di Villalba. Ricoverati in degenza ordinaria due pazienti di Niscemi, 1 di Riesi, 1 di Caltanissetta e 1 di San Cataldo. Dimesso dalla degenza ordinaria un paziente proveniente da fuori provincia. Risultano deceduti un paziente di Gela e uno di Mazzarino, entrambi positivi al SARS-CoV-2. Sono 126 guariti dal Covid-19 invece, 50 di Gela, 26 di Caltanissetta, 18 di Niscemi, 6 di Mazzarino, 5 di Sommatino, 3 di Riesi, 3 di Mussomeli, 3 di San Cataldo, 3 di Vallelunga, 3 di Butera, 2 di Campofranco, 1 di Milena, 1 di Montedoro, 1 di Serra di Falco e 1 di Villalba.